Dei giorni, quindi ragazzi del Vicio Gandhi, noi abbiamo fatto una riflessione, abbiamo attraversato un po' nelle nostre giornate quotidiane qualche particolare collocazione. Cioè ci siamo chiesti, dove sono le donne nel dibattito politico? Che si procura di assuntare la complessità quotidiana di uomini e donne nell'arco della loro vita? E abbiamo visto insieme a loro come la donna, visto che noi dobbiamo fare una battaglia culturale, quindi partire dai giorni, come una donna è percepita dai giovani, il genere è percepito dai giovani, non solo una donna, ma il genere. E adesso per questo ci sarà proprio una ragazza, una mia nonna, che molto brevemente incontrurrà un filmato che abbiamo preparato, un filmato che attraverserà varie problematiche che di qui a poco saranno affrontate le persone che interverranno al dibattito, che sarà presente due momenti, limiti e prospettive. E poi la ricchezza. Ci speriamo veramente in una società migliore. Speriamo di avere dal pubblico anche qualche contributo. Quindi chiediamo alle ordine che gentilmente possono passare dal pubblico, attraverso il pubblico, ad accogliere qualche prenotazione per l'intervento. E visto che ci sarà di giovani, vorrei sapere che poi abbiamo uno sportello nidil per l'orientamento al lavoro. Altra veramente problematica molto difficile. Quanto sono le attuali su cui ci muoveremo adesso con questo filmato? Che sono quelle che più penalizzano la donna. La legalità, il welfare, il lavoro e la democrazia della proprietà. Grazie. Francesca...